Amici di Mitico Channel, dopo un po' di tempo ci ritroviamo finalmente a commentare quelle che sono state le gesta del Foggia in queste ultime giornate. Fortunate, perché il Foggia viene da una trasferta difficilissima, qual era quella di Ascoli Piceno, dove con una grossa prestazione di carattere, specialmente nella seconda parte della gara, si è reso autore di una partita vinta, vinta la grande, di commerito, un grosso gol di Chiricò su azione personale, Chiricò che nonostante a detta di molti venisse da un infortunio importante, anche se smentito da lui, però qualche dubbio rimane a proposito, autore di una grossa azione personale che ha consegnito al Foggia di stabilizzare il risultato sul 2-0. La cosa ancora una volta da ripetere, sempre più bella, è quella del pubblico foggiano. Abbiamo assistito a scene bellissime di tavolate, dove addirittura c'era anche qualche componente delle forze dell'ordine a cui ha partecipato, con la classica braciola, lasagna, timballo e qualcosa, cosa bellissima a vedere, un calcio ad altri tempi, diciamocelo chiaramente. In questo i tifosi foggiani stanno dando punti a tutti. Lezioni di grossa civiltà, diciamo che il Foggia va molto bene in trasferta, quindi questo aiuta anche molto, perché molte volte si festeggia, è la quarta migliore squadra nel camionato di Serie B per la gara in trasferta, ha il miglior attacco in trasferta, ed è la seconda squadra in attacco, con il miglior attacco di tutto il camionato della Serie B. Questi sono numeri da grande squadra. Peccato, perché il Foggia pecca proprio là dove dovrebbe essere più forte, vale a dire tra le mura amiche dello Zaccheria. E questo è il grosso dolore, perché se questa squadra avesse un po' più di personalità nel giocare in casa, con lo grosso pubblico che ha oggi, non dico sarebbe al primo posto, ma sarebbe sicuramente tra le prime tre e quattro del campionato. Se diciamo anche un po' la sfortuna lasciasse perdere il Foggia, con i tanti infortunati che rientrerebbero, e quindi senza ulteriori infortuni, secondo me il Foggia può ambire a qualcosa in più. Poi aspettiamoci qualcosa di grasso dalla società, il nuovo DS che dovrebbe arrivare a fine di questa settimana, inizio della prossima. I due nomi sono Nember e Maiorino, Nember è favorito rispetto a Maiorino, almeno stando alle ultime notizie, premesso che queste cose possono sempre cambiare. Ci auguriamo che sia il nome giusto, anche perché sostituire un direttore sportivo valido come Di Bari è una cosa estremamente difficile e complicata per i risultati che Di Bari ha conseguito in questi ultimi cinque anni. Quindi è importante non sbagliare, anche perché ci aspetta il mercato di gennaio, un mercato dove se il Foggia azzeccherà quei tre-quattro innesti importanti, specialmente dietro in difesa, il Foggia potrà competere sicuramente per i play-off a promozione. Attenzione, perché il Foggia è una squadra che nel giro di ritorno veramente può risalire la china. Quindi tutti uniti, più che mai. La partita importantissima è quella con la Ternana, quella di sabato, tra l'altro con Pokesci, un allenatore che ha dato molti problemi al Foggia, l'unico imbattuto dell'anno scorso in Lega Pro, quando ci fregò in casa con una vittoria allo Zaccheria e un pareggio poi in trasferta, quello famoso della vittoria del campionato del 23 aprile 2017. Quindi, ragazzi, buon calcio a tutti e speriamo bene, perché questo Foggia può veramente fare grosse cose. Ciao a tutti!